Ciao a tutti e benvenuto al consueto aggiornamento ciclico sull'S&P 500 con l'indicatore Ball Time. Ci eravamo lasciati con l'esclamazione S&P 500 arrivata da fase di ribasso. Fase di ribasso che era partita perfettamente il 19 di maggio, mercato poi sulla trimestrale di NVIDIA partito a missile, partita missile è andato a rompere nuovamente l'area di resistenza 4.193, 4.213 e adesso sta ritornando, sembrerebbe almeno, che stia ritornando sui suoi passi quindi a seguire nuovamente quella che è la previsione ciclica. Grazie all'indicatore è possibile ovviamente creare su base statistica quello che sarà il movimento futuro del mercato sia da un punto di vista di un trend di fondo che delle sue componenti interne di swing. Il trend di fondo è chiaramente generato dei cicli più grandi che andiamo a visualizzare, in questo caso sono cicli che partono da 54 mesi fino a 80 giorni e i cicli da 40 giorni, da 20 giorni sono invece responsabili dello swing. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare in questo caso è cercare di capire qual è la tendenza di fondo. Tendenza di fondo la possiamo individuare chiaramente togliendo gli swing in quello che sarà il futuro movimento del mercato e in maniera molto semplice basta andare a eliminare i cicli da 20 giorni e 40 giorni con un semplice click ed ecco che diventa evidente anche per eventualmente chi non è pratico se la prima volta che guardi una analisi dei mercati e se non hai mai avuto modo di lavorare con l'analisi ciclica ecco che in questo caso diventa evidente quello che sarà il trend da qua ai prossimi mesi e stiamo parlando di una scadenza intorno al 12 di agosto. Quindi già una prima informazione importante che possiamo avere con l'analisi ciclica è sapere che cosa accadrà da qui a diversi mesi, addirittura anni se si lavora da cassettista chiaramente ma nel nostro caso è che i cassettisti quantomeno per l'analisi che sto svolgendo non siamo e un paio di mesi di analisi è già una bella previsione. Sappiamo che di fondo siamo al ribasso e quindi andando ad aggiungere i cicli da 40 giorni e i cicli da 20 giorni riusciamo a definire quella che sarà la tendenza con gli swing da qua ai prossimi giorni. Il prossimo minimo che sarà quello di un ciclo da 20 giorni che vediamo qua e quello di un ciclo da 40 giorni che vediamo qua quindi corrispondono entrambi con la data del 16 di giugno è previsto appunto per il 16, peraltro il giorno del mio compleanno. Quindi significa che le indicazioni rialziste non vanno minimamente prese in considerazione anche se il mercato dovesse salire perché su base statistica il mercato è short. Cosa vuol dire statistica? Vuol dire che in questo caso l'analisi è partita, la vediamo qua, il 15 novembre 2012. Stiamo parlando di quasi 11 anni di analisi. In questi 11 anni l'indicatore è andato indietro, ha fatto i suoi calcoli e in questa colonna puoi vedere la durata media dei cicli. Parintendi c'è un ciclo da 20 giorni. La durata del 20 giorni è di 18, scusa ho messo in paso perché è passato un trattore, è rimasto acceso davanti alla mia finestra, stavo morendo soffocato. Il 40 giorni 35 giorni, l'80 giorni 64 e via discorrendo. Tutte queste informazioni servono, proiettate nel futuro, sommate tra di loro a comporre quello che sarà il movimento nel futuro. Questo movimento è importante come previsione perché siamo in grado di isolare cicli molto grandi per una tendenza di fondo e cicli più piccoli per quanto riguarda gli swing. Quindi è qualcosa veramente di un'informazione pazzesca. In questo caso ad esempio da un 54 mesi a un 20 settimane possiamo vedere quelle che sono state le dinamiche. Qui il prezzo c'è, devo solo andarlo a tirare su. Quindi riusciamo a capire la dinamica di un ciclo che va fino a un 20 settimane e quindi avere anche idea di quella che è una direzione di fondo, un 5-20 settimane che andrà a chiudere più o meno qua intorno alla fine del mese di luglio, primi giorni di agosto che andranno a chiaramente diventare più precisi, andando ad aggiungere sempre cicli più piccoli, via via più piccoli per avere appunto un quadro anche corretto di quelli che saranno gli swing di mercato. Che cosa ci dobbiamo aspettare per i prossimi giorni, quale sarà l'operatività, quali saranno i livelli che dovremo prendere in considerazione lo andremo a vedere immediatamente dopo una bravissima presentazione di chi sono. Sono Paolo Pesino, sono un trader dal 2007, negli ultimi 10 anni dei 15 di miei, diciamo, di mercati li ho passati a studiare un'analisi ciclica e sono un tossico dipendente dell'analisi ciclica. I mercati per me esistono solo sotto forma temporale, tutto quello che è il prezzo, che sono i volumi per intenderci per me arrivano dopo. Sono un sostenitore, lo dimostro tutti i giorni con le mie analisi, che i mercati si possano prevedere esclusivamente con l'analisi ciclica e quando ti viene detto che i mercati non sono prevedibili vuol dire che semplicemente chi te lo dice non utilizza l'analisi ciclica. Prevedibili vuol dire che si può, e su base statistica, sapere quale sarà la direzione dei mercati è una base statistica, è un conto matematico, quindi è soggetto ad errore quello che non è possibile sapere è da quale affermazione i mercati non sono prevedibili che cosa farà il mercato in punto di vista dei prezzi, quale sarà la volatilità, se un livello terrà, se un target verrà raggiunto oppure no. Lì entriamo nel campo del secondo me accadrà quello perché mi sono fatto quell'idea lì. Con l'analisi ciclica nel momento in cui deciderai di affrontare il percorso dell'analisi ciclica, affrontare un termine brutto, deciderai di approfittare del percorso dell'analisi ciclica e imparare a utilizzare l'analisi ciclica e capirai che i livelli diventano efficaci nel momento in cui ti ritrovi sul massimo e minimo ciclico. Quindi quella che è un'analisi dei prezzi che è fallimentare al 100% perché un livello di prezzo ha la probabilità di essere rotto al 100% quando andrai invece ad analizzare con lo stesso metodo che magari hai già seguito a fare per i livelli di prezzo, ma sul massimo e minimo ciclico ti accorgerai che quella tua analisi dà un'attendibilità quasi prossima allo zero diventerà un'attendibilità quasi al 100%. Parlo dell'individuazione della tenuta di un livello di prezzo poi chiaramente i livelli di supporto resistente è corretto tracciarli come normalmente se abituati a tracciarli ma sarai d'accordo con me che un livello ti accorgi che tiene sempre solo dopo non ti accorgi, non lo puoi dire quando terrà ma ti sei accorto che ha tenuto sempre solo dopo che ciò è avvenuto con l'analisi ciclica aumenti molto questa probabilità. ti invito quindi a unirti al canale Telegram gratuito analisi gratuite, segnali gratuiti come quello di oggi sul DAX con 40 punti il segnale in 3 days sugli indici oltre ai segnali su DAX e Nasdaq avrai anche accesso alle analisi sull'S&P 500, il Dow Jones e il Gold e analisi che sono correlate da un video dove spiego come utilizzare le analisi per tradare anche per conto tuo non solo con i miei segnali educativi indicatore Voltam che è quello che vedi utilizzare in questa analisi incluso il canale Telegram per poter lavorare con gli altri traders che lavorano con il mio indicatore e appunto il programma formativo per eccellenza analisi ciclica e volumetrica quindi potrai sapere dove e quando capiterà qualcosa e su quel livello lì se i compratori e i venditori avranno veramente una predominanza uno sull'altro 8 ore di formazione base, 40 ore di corso di analisi ciclica 9 ore di formazione di analisi volumetrica sia intraday che multiday, importante questo un anno di licenza degli indicatori Voltam 2 ore di coaching individuali un anno intero di canale Telegram Voltam perché dico importante multiday con i volumi? perché tutti ti insegnano solo a fare scalping un punto o due punti, per quale motivo? perché con i volumi non puoi prevedere fin dove il mercato arriverà o per giocoforza e con l'analisi ciclica avendo il tempo della tua si è in grado di farlo quest'oggi lo short sul Nasdaq l'abbiamo chiuso al punto esatto il long sul DAX l'abbiamo chiuso al punto esatto e lo puoi vedere qua sul canale Telegram dei segnali chiaramente quindi non è una storia che ti sto raccontando questi sono i segnali di oggi il Nasdaq l'ho chiuso esattamente qua sul minimo esattamente qua sul minimo il volume segnalava che c'era qualcosa che imparerai nel corso ma l'ho chiuso perché eravamo sul minimo ciclico solo per quello se no il mercato l'avrebbe potuto tranquillamente rompere se il minimo ciclico fosse stato spostato più in là stesse cose per quanto riguarda invece il DAX questa mattina ho dato lo short, il long sul DAX che ho comunicato anche gratuitamente nel canale Telegram gratuito di segnali ne mando pochissimi nel canale gratuito analisi qualcuna di più sicuramente almeno due a settimana le invio e idem per quanto riguarda il DAX chiuso esattamente sui, questo è sempre il DAO chiuso sui massimi il 3 del DAX vedi DAX sono anche al mercato chiuso abbiamo fatto 40 punti sul DAX in totale 70 sul Nasdaq e 40 sul DAX nella giornata di oggi questo è come se andando maggio, ormai è finito Nasdaq ancora leggermente negativo con 40 punti di meno, DAX positivo con 2,59 il DAO meno 510 che non trado più dalla prima settimana di maggio perché la maggior parte dei traders so che trada con cifra tonda cifra tonda va bene su Nasdaq e DAX che hanno più o meno lo stesso movimento e costano più o meno uguali il DAO muove 3 volte un Nasdaq e un DAX e quindi 100 punti di stop o 50 punti di stop sarebbero 20 punti di stop su un DAX gioco forza, gli stop sul DAO sono più grandi e se si usa una size uguale agli altri uno stop costa 3 volte visto che il movimento è 1 a 3 più o meno quindi ho deciso di toglierlo perché nel mio caso con una size di un terzo questi 510 punti non vanno a inficiare il profitto qua sopra con invece una size piena ecco che quei 510 punti lì causano una perdita valute, non ci saranno più segnali a partire dall'8 di giugno, 8 di maggio ho ceduto alle lusinghe di chi mi chiedeva il segnale in 3D sulle valute ho fatto anche un sondaggio prima di aprire il servizio su 470 votanti, 320 hanno detto di sì se ne sono scritti in due e ovviamente ho deciso subito di chiuderlo e per due persone non mantengo in piedi chiaramente il servizio che mi costa comunque fatica troviamo noi, che cosa dobbiamo fare? long non si va, cerchiamo solo degli short abbiamo un bel minimo previsto il 16 giugno appunto per un 40 giorni o 20 giorni e uno short si potrà già iniziare a cercare sotto alla rottura di 4193 che poi da un punto di vista secco è il massimo del 2 di febbraio 2023 ma per quel che mi riguarda è tutta quest'area importante come supporto entriamo però poi dentro, ahimè, un'area un po' del cavolo che è questa qui qui è un gran casino perché lo vediamo il mercato ha veramente pasticciato enormemente qua quindi sarà non facile andare a erodere tutte queste parti tra l'altro abbiamo un minimo già previsto per il 30 di maggio quindi in questi giorni, anzi oggi dovremo aspettare gioco forza i primi giorni di giugno quindi uno swing per poter entrare a ribasso per essere un po' più sicuri quindi bisogna tenere duro piuttosto perdere il treno in caso di rottura ma sarà per noi più importante nel mio caso lo farò chiaramente solo in intraday però aspettare che si venga a verificare questo quindi una rottura, il ritest allora poi potremo andare a prendere la fase di ribasso fino a 16 di giugno e qua al momento ho previsto la lateralità per i mesi successivi e cercheremo poi di capire man mano che verranno confermati questo minimo e questo minimo come andrà a svilupparsi la sinusoide nei successivi giorni e cercare di capire se una probabilità di ribasso sarà ancora elevata o se ci dovremo aspettare una lateralità con questo direi che è tutto ci aggiorniamo poi nei prossimi giorni con appunto un aggiornamento ciclico sull'S&P anche per vedere quello che sarà accaduto o che accadrà e tirare quindi le somme anche in base all'analisi precedente con questo direi che è tutto ti auguro un buon pomeriggio e ci vediamo domani per le due successive analisi ciao ciao